Dopo sette mesi in fuga si è conclusa la latitanza di Emilian Bici ed Ermelinda Spachiu evasi dal carcere di Pesaro lo scorso 14 novembre. La coppia di origine albanese era riuscita a far perdere le proprie tracce durante uno dei turni di lavoro che svolgeva in un terreno agricolo sul San Bartolo, terreno in cui quotidianamente venivano accompagnati dal penitenziario di Villa Fastigi assieme ad altri detenuti. I due fuggiaschi sono stati fermati ad un posto di blocco in Svizzera dalla polizia elvetica. Su di loro pendeva una condanna per tentato omicidio dopo un fatto di sangue risalente a gennaio 2018 avvenuto nel Ravennate. L'evasione destò sconcerto a Pesaro anche perché la donna avrebbe finito di scontare la pena pochi giorni dopo la fuga. L'identificazione della coppia è avvenuta grazie a una meticolosa operazione incrociata fra le autorità italiane e svizzere. Coppia che attualmente è a disposizione delle autorità elvetiche in attesa del procedimento di estradizione verso l'Italia.